le hanno sparate e la presa con me aiutile da tu e non è vero ha finito i botti nonno ma adesso li vuoi comprare vero? si mettono te lì a me non sono tutti cammino a testa di c***o perché li esce in segreto? vi faccio un piccolo spoiler su una cosa che troverete non vi dico dove ve lo dico stasera ma guardate questi sono tutti adesivi tutti stickers guardate che spettacolo che troverete non ve lo dico dove ve lo dico stasera ma guardate che roba pensate a ricevere uno stickers così una sorpresa per voi quindi ve lo dico stasera piove? una domanda sì dimmi come si è comportato? benissimo oh era ora benissimo benissimo sempre mezzo te benissimo ma fino a certo punto eh ci sbilanciamo troppo non vorrei sbilanciare che tua amore? benedizione no che ha detto Dio no benedicus vobes impotentis Deos peccatoribus bestemiorum aquatorum bello de Roma ecco come si è